Papa Francesco in visita in Thailand ha incontrato il Patriarca Supremo dei Buddisti Somdei Prama'an Muniwong, conosciuto anche come un porn, un parou, nel tempio Watrachabopit Sati Masimaran, ribadendo il suo impegno per il rafforzamento di un dialogo aperto e rispettoso e sottolineando che una cultura dell'incontro tra le religioni è possibile. Gli ha anche regalato il documento sulla fraternità che ha fermato l'anno scorso ad Abu Dhabi con il grande imam di Al-Azhar. Dobbiamo lavorare insieme perché la nostra umanità sia più fraterna, è stato il suo invito. È la prima volta che Francesco dona questo documento a un rappresentante buddista. Poi, incontrando le autorità thailandesi, ha rivolto un pensiero a donne e bambini sfruttati e ridotti in schiavitù. Penso a quelle donne e a quei bambini del nostro tempo che sono particolarmente feriti, violentati e disposti ad ogni forma di sfruttamento, schiavitù, violenza e abuso, ha detto rivolgendo un saluto al primo ministro Prayuth Chan-ocha e sottolineando gli sforzi del governo thailandese volte a estirpare questo flagello. Il futuro dei nostri popoli è legato in larga misura al modo in cui garantiremo ai nostri figli un futuro della dignità, ha detto. Francesco si è recato inoltre all'ospedale St. Louis di Bangkok, dove ha incontrato il personale medico, sanitario e ausiliario anche di altri ospedali cattolici e centri caritativi in Thailandia, incoraggiandoli nel loro impegno a favore dei bisognosi. Infine ha lanciato un messaggio ai giovani thailandesi riuniti in una veglia di preghiera nell'atrio dell'annunziatura che lo ospita a Bangkok. Non passate la vita sul divano, ma costruitela, andate avanti e impegnatevi.